Salutiamo Pierfrancesco Favino che ha vissuto un 2018 da incorniciare, diciamo noi, perché lo abbiamo visto, l'abbiamo incontrato a partire dal febbraio scorso in sala RUF a Sanremo e poi tutto quello che è accaduto, molto bello. Bellissimo, un anno da ricordare sicuramente, pieno di sfide, di cose nuove, sono molto felice, spero che il 2019 sia altrettanto eccitante. Hai riuscito a dividersi tra teatro, cinema e televisione, ma rimanendo con una passione prima di tutto, oppure le cose si sono intrecciate bene? Ma fortunatamente appunto la curiosità, la scoperta di cose nuove è ancora quello che mi muove, per cui io non penso che le cose siano in contrasto. E' quello che mi piace fare, quello che desidero fare, anzi più novità ci sono, più sono felice, per cui penso di essere riuscito, di continuare a riuscire a mettere insieme le cose, anche per dare al pubblico un'alternativa, perché altrimenti fai sempre una cosa sola, anche noioso, per me manca, per chi ti guarda. Da poco ti chiederò dell'incontro di stasera, che è in questo luogo molto particolare, dove si fa molta cultura, molto confronto, però io volevo tornare un attimo al cinema, alla pellicola che è ora al centro dell'attenzione, fare d'Artagnan che effetto fa? Bellissimo, poi un d'Artagnan particolare, un d'Artagnan per bambini, un d'Artagnan divertente, con un toscanaccio come Giovanni Veronesi e i miei compagni d'avventura. Ci siamo divertiti moltissimo, è stato un film particolare che mi porto dentro, sono felice del successo che sta avendo, e lo voglio dire, è un film anche per bambini, forse all'inizio le persone non hanno capito bene di che si trattava, ma invece è un vero film per famiglia, è ancora al cinema, sono felice se l'avete a vedere. Da due giorni a Ponte d'Era per fare le prove di questo spettacolo, che parte con il riferimento da prima, e il monologo poi fatto a Sanremo ha colpito tutti, assolutamente. No, mi fa molto piacere perché era una cosa che ho appena finito, prima di fare Sanremo, non mi aspettavo questo tipo di successo, non è stato fatto per altri motivi che non per sostenere in realtà la canzone di Fossati che c'è che veniva dopo, dopodiché ho avuto un successo inatteso, l'avevo appena finito a teatro, lo riporto in giro con gran piacere perché è una cosa a cui sono molto molto legato, e il brano che era preso a Sanremo era solo un piccolo estratto ed è appunto l'inizio dal 7 a Ponte d'Era e poi lo porterò in tournée fino al 4 marzo. L'ultima cosa, l'incontro di stasera si parlerà di teatro, di cinema naturalmente, di televisione, ma si affronteranno anche dei temi in un'Italia, in un paese che vive un momento molto delicato, molto particolare, dalla sua visione, che cosa si può dire in questo momento alla gente italiana che vive con tante preoccupazioni? Ma innanzitutto che sono le stesse mie, nel senso non è che io vivo altrove, sono qua, io penso, ho fatto una scelta che è quella di darmi da fare, di cercare di dire come la penso attraverso il mio mestiere, ho il privilegio di fare un mestiere che ogni tanto mi dà la possibilità di essere ascoltato, ma sicuramente di lavorare, di sostenere il proprio pensiero, è importante, dopodiché l'Italia, le italiane sono un paese capace di tirarsi sulle maniche e di guardare al futuro, ma non siamo solo noi in questo momento, in questa situazione, è sicuramente un momento molto particolare, però io credo molto nel lavoro, credo molto nella generosità, nel darsi da fare nei giovani, nel tentare di migliorare ciò che tu puoi fare e questo penso che sia la mia risposta, dopodiché ognuno è libero di pensarla in un altro modo, però io reagisco così, preferisco fare, darmi da fare, cercare di portare qualche cosa di positivo per quanto mi è possibile e magari questo genera altra positività. Grazie. Grazie.